Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto Milan-Napoli, pre-partita mattutino per il match che si terrà stasera a San Siro Probabili formazioni anche se dal punto di vista del Napoli non abbiamo una conferenza stampa di riferimento perché il Napoli ha deciso così e fa quando vuole abbiamo alcune dichiarazioni di Pioli che a livello tattico mi hanno fatto pensare ad alcuni pericoli che potrebbe creare appunto il Milan andremo a spulciare anche le formazioni del Milan, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti iscrivetevi al canale per chi è nuovo attivando la campanella delle notifiche sempre se vi piacciono i miei contenuti con un bel like che aiuta il sottoscritto a livello morale e l'algoritmo a proporre appunto i miei stessi video partiamo altrimenti diventa un video troppo lungo e non lo voglio attenzione formazione del Milan 4-2-3-1 Magnane tra i pali Calabria Chier Gabri Ternandez la linea difensiva Adli e Benazer davanti alla difesa Pulisic Loftuscik e Leao dietro a Giroud il Napoli dovrebbe schierare questo 3-5-1-1 composto così Gollini Ostica Dracmani One Jesus la linea di difesa Di Lorenzo Anghissà Lobot Cacaiust e Mazzocchi Quaraschelia e Simeone scusate c'è un solo ballottaggio Cacaiust Zieliski che diventa poi uno snuoto fondamentale per l'interpretazione del modulo perché i moduli possono essere visti sì numericamente ma va comunque argomentato l'approccio e l'interpretazione dello stesso dal mio punto di vista viste le dichiarazioni di Pioli che dice che Benazer potrebbe agire più a livello difensivo che a livello offensivo perché gli viene fatta la domanda Benazer come trequartista potrebbe essere una soluzione Pioli dice a me non piace avere giocatori che si fossilizzano nella stessa posizione però credo che gli vengano dati comunque compiti un po' più arretrati ed ecco che mi nasce il il dubbio per quanto riguarda la pericolosità di Loftus-Cic allora mettiamo che sono i tre dietro la punta con Adria e Benazer escludiamo la linea difensiva perché per esaminare questa situazione non ci serve questo è Loftus-Cic giusto? abbiamo detto Pioli ha detto che Benazer dovrebbe avere i compiti più difensivi nelle ultime uscite abbiamo visto le squadre che hanno affrontato il Milan che ovviamente vanno a raddoppiare Pulisic e Leao tenendo sotto scacco Giroud con una marcatura uomo molte volte possiamo farlo anche noi mettendo Ostigard secondo me su Giroud che sulle palle alte è molto competitivo il nostro centrale e anche a livello di attenzione sui grossi che arrivano comunque tra i tre di difesa potrebbe fare la differenza sull'attaccante del Milan non perdiamo e mettiamo un uomo su Giroud altrimenti facciamo la fine della partita di andata marcarlo a zona soprattutto quando arriva qui non va più bene detto questo la posizione che mi intriga e che potrebbe far male è quella di Loftus-Cic che potrebbe andare sia per vie centrali e sia sugli esterni creando la superiorità numerica con inserimento visione di gioco che ha piedi buoni e vede la porta mentre la squadra avversaria o le squadre avversarie che affrontano il Milan si vanno a raddoppiare in questo caso noi con Di Lorenzo e Mazzocchi che scendono e compongono questa difesa a 5 andiamo a raddoppiare sugli esterni e ci perdiamo il centrocampista del Milan che in inserimento potrebbe fare molto male quindi occhio alla posizione di Loftus dietro la punta nei tre di centrocampo avanzati mettiamoli così il Napoli si schiera con questo 3-5-1-1 può essere difensivo e vedremo la stessa partita che abbiamo fatto contro la Lazio può essere tutto può essere ma io mi auguro in un'interpretazione di un approccio alla partita molto più offensivo di quanto lo è stato con la Lazio perché sì ci potremmo anche tenere questo punto a Milano perché vai a Milano è comunque un campo difficile contro la terza in classifica tutto quello che volete ma io ho bisogno di certezze e concretezza a livello prestazionale contro il Milan perché poi se vogliamo raggiungere questo quarto posto o giocarcelo almeno questo quarto posto vista anche la Roma che sta tornando pian piano dietro ai dettami di De Rossi arriverà e automatizzerà il gioco sicuramente tra qualche settimana vedremo una Roma ancora migliore di quella che abbiamo visto ieri c'è l'Atalanta che o cala fisicamente o altrimenti diventa difficile raggiungerlo questo quarto posto però confrontarsi appunto con squadre di alta classifica facendo prestazioni interessanti potrebbe essere linfa vitale e salute mentale in più diciamo per la squadra del Napoli un 3-5-1-1 dicevamo lo snodo lo snodo e Zielinski non prendiamo la linea di difesa perché non ci serve per spiegarvi quello che voglio dire i 5 di centrocampo 1-1 questo è Quara questo è Simeone e questo dovrebbe essere o Cajust o Zielinski nel caso sia Cajust il gioco è fatto e siamo un modulo diciamo che interpreteremo il modulo in maniera più difensiva che offensiva avendo Cajust meno qualità tecniche di Zielinski non schiererei Zielinski per lo stesso fatto contrattuale non lo sappiamo come sta mentalmente a Castelvolturno comunque vediamo sorrisi c'è armonia in allenamento non ci sono mal di pancia molto probabilmente da questo punto di vista però visto che c'è questa situazione è una partita contro una squadra di alta classifica dove molte volte il polacco comunque ha fatto prestazioni altalenanti contro partite in partite importanti e contro squadre diciamo di un determinato livello di classifica non lo so come sta Traoré potrei schierare Traoré al posto di Zielinski e interpretarlo più offensivamente questo modulo ma quanto si legge nel caso giochi di Zielinski potrebbe diventare un aiuto per Quara qui dietro la punta che è Simeone però molto probabilmente si vanno più ad annullare i due così che altro quindi se schieri un 3-4-2-1 per me o te la rischi e metti Lindstrom e Quara dietro la punta Simeone altrimenti se vuoi fare questo centrocampo a 5 partiamo con Cajust e poi vediamo come si mette ma è vero che il Milan ha una difesa è traballante è vulnerabile per quanto riguarda gli inserimenti dei centrocampisti e nella lettura diciamo della fase offensiva della squadra avversaria però è anche vero che noi dobbiamo arrivarci come si deve e abbastanza pericolosi al ridosso dell'area di rigore e non vedo non vedo con con Cajust schierabile è un anghissà che può fare il giorno e la notte nella partita stessa diciamo non vedo questi spunti troppo pericolosi ecco forse perché l'impiego di Zielinski che a livello tecnico potrebbe con un cambio gioco con le sue solide veroniche a spiazzare l'avversario e a direzionare appunto il passaggio legame tra linea mediana e attacco potrebbe creare difficoltà quindi vedremo poi se avrà ragione Mazzardi nello schierare Zielinski o nello schierare Cajust a livello a livello tattico dobbiamo solo cercare di portare a casa un'ottima prestazione e un punto sì tre punti sarebbe il massimo e io vorrei farli questi tre punti per agganciare la Roma e per metterci comunque di traverso tra le altre in questa lotta a quarto posto perché poi diventa molto una lotta di nervi quando hai quattro cinque squadre che si stanno giocando i posti in Europa diventa una lotta nervosa da non sottovalutare quindi vedere la classifica sia per noi tifosi ma credo anche per i calciatori che tutto possono dire no la classifica non la guardiamo no ci sono tante partite vediamo poi a fine campionato tutto si può dire ma credo che uno sguardo alla classifica la si dà il lunedì e vedere un Napoli a pari punti con la Roma domani sarebbe cosa buona e giusta sotto tutti i punti di vista ovviamente abbiamo di fronte una squadra che a livello fisico al momento è in salute a livello di corsa è in salute e anche un tantino in fiducia perché questo quarto posto può essere tra virgolette congelato a livello di punti ma non troppo perché la Roma risalirà molto probabilmente con dei russi all'Atalanta se non cala diventa a mio avviso la favorita per questo quarto posto dobbiamo metterci noi di traverso e per metterci di traverso serve continuità e prestazioni e quale occasione migliore nel fare una prestazione e cercare questa continuità contro il Milan è vero a San Siro campo difficile ma non è un Milan irresistibile fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti ci vediamo ovviamente credo sul canale di Manatv alle 19.45 andrò in questo prepartita con Mauro per vedere se queste probabili formazioni poi saranno confermate e appunto fare un tantino di recap della giornata prima che inizi il match e poi ci vediamo nel post partita di consueto o stasera o domani mattina al massimo per le altre considerazioni a fine partita e al risultato acquisito ciao